edizione straordinaria del tg delle occasioni eccoci qua in auto vm como pronti e adesso passiamo la linea un nostro splendido inviato davide grazie della linea iniziamo a proporre queste splendide renegade modello 2018 attenzione modello 2018 partiamo con questa vettura splendida che è una 1.6 benzina allestimento longitude con climatizzatore automatico cerchi lega da 17 pollici come la versione limited e navigatore passiamo poi ad un allestimento limited con motorizzazione diesel anche questa con sensori di parcheggio anteriori posteriori cerchi a 17 vetri scuri quindi vetture sempre molto accessoriate un plus eccezionale il cambio automatico ottimo per questa motorizzazione passiamo inoltre a una vettura in allestimento longitude questo è un 1.6 diesel sempre con climatizzatore automatico e navigatore satellitare tutte queste vetture sono in pronta consegna abbiamo la possibilità di proporre eventualmente anche altri colori prezzo splendido a partire da 19 mila e 100 euro solo per voi signori super chicca audi a 1 1095 cavalli con allestimento s line vetture aziendali con pochissimi chilometri ultimi due pezzi in disponibilità entrambe in colore bianco a partire da 15 mila e 350 euro solo per voi aperti 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 ma aperti per cosa è perché auto vm si sta preparando per un'apertura straordinaria ma davvero beh allora non ci resta che fare una cosa andiamo a vedere per forza per forza ste finalmente fuori ma io non ci credo ma veramente ma che bello poi c'è anche l'arietta giusta ma è bello perché è vero ci sono gli ares wagon day 17 18 febbraio 24 e 25 febbraio sabato e domenica un orario da paura orario continuato dalle 9 alle 22 il sabato e dalle 10 alle 22 la domenica e ce n'è per tutti qua abbiamo solo quello così qualcosina di quello che possiamo assaggiare del prodotto ieri svagen vediamo cos'è ieri svagen però dai dai allora ieri svagen sono tutte auto aziendali ufficiali di fabbrica con chilometraggio certificato al di sotto dei 30 mila chilometri sono tutti i vari allestimenti abbiamo classe a cl a berlina shooting break classe b classe c possiamo fare tutto l'alfabeto e non dimentichiamo c'è anche il prodotto smart per la piccolina di città cosa dici ma diciamo che di prodotto ce n'è tanto tanto e tra l'altro anche in pronta consegna è assolutamente perché è su quello che si vince perché avere indisponibilità smart for for smart for to classe a abbiamo tutto allora attenzione classe a soprattutto ne abbiamo parecchie in pronta consegna varie motorizzazioni benzina e diesel abbiamo vari allestimenti dalla business alla sport alla premium per chi vuole una macchina col pacchetto in gay ragazzi io non vi dico altro no bisogna venire qui a vederle toccarle con mano perché le macchine ci sono tutte in pronta consegna e se non c'è il colore che vi piace ve la facciamo arrivare assolutamente sì perché insieme possiamo vedere tutta la disponibilità di fabbrica e venite le potete provare le dovete provare io non compro una giacca senza provarla figuriamoci una macchina ma tutto bello ma i prezzi smart a partire da 9.350 euro classe a da 18.900 ciao ciao continuiamo un segmento con queste utilitarie molto eleganti parliamo di volkswagen polo new polo vetture chilometri zero in matricolazione 2018 in allestimenti trend line e per il cliente un pochettino più esigente la nostra comfort line dotata già di cerchi lega fendinebbia la radio con il display multicolor quindi diciamo non manca nulla venite a scoprirle venite a provarle abbiamo la possibilità anche di farvene provare una assolutamente sì non ditelo a nessuno ebbene sì parliamo di golf nobile sport ma anche nobile automobile abbiamo qua un po di tutto david dammi una mano perché sono troppe io non ce la faccio da solo ragione alessandro siamo proprio in un mondo speciale il mondo volkswagen una vettura segno un simbolo di affidabilità praticamente ma allora hai già parlato di polo sappiamo che di polo ne abbiamo usate aziendali chilometri zero golf golf mamma golf quindi partiamo dai famosi diesel dal 1600 al 2000 per chi ha voglia di qualche cosa più grintoso e poi adesso togliamocelo lo sfizio del cambio automatico sempre questo cambio manuale dai novità novità 2018 quindi abbiamo in disponibilità anche tutto quello che riguarda golf restyling già con il pacchetto airline benzina e diesel ci hanno su qualcosa di un po goloso queste macchine assolutamente sì alessandro la novità la novità il mirror link qui devi spiegare tu a questi signori che hai la fortuna di essere un po più giovani di cosa stiamo parlando oddio giovane giovane tanti tanti anni fa però allora oggi abbiamo sicurezza perché abbiamo la frenata assistita i sensori di parcheggio anteriori e posteriori abbiamo la manovra automatica e poi ragazzi il bluetooth il mirror link o l'app connect sono tutti i dispositivi che permettono di collegare il vostro smartphone direttamente alla macchina quindi voi potrete trovare direttamente a portata di zampa tutte le app che vi servono ovviamente non mandiamo i messaggini perché quando si guida bisogna stare attenti brazzo ce la facciamo per il weekend o no ma sì dai che ce la facciamo su su allora ricordiamo a tutti che saremo aperti nel weekend 17 18 febbraio 24 e 25 febbraio con un orario pazzesco e avremo anche qualche sorpresina perché ci viene a trovare ma venite a scoprirlo qua abbiamo un'altra signorina una bellissima mercedes gl a questa nello specifico parliamo di un 200 diesel sport col cambio automatico abbiamo tetto panoramico apribile i fari full led sensori anteriore e posteriore navigatore provate a inventare un accessorio credetemi ce l'ha allora su questo prodotto abbiamo disponibilità sia benzina diesel manuale automatiche in realtà rispetto a classe acqua i numeri sono un pochino più ridotti ma se vi affrettate riuscite a trovare l'occasione del secolo i prezzi di gl a partono dai 25.600 euro male ma suv li abbiamo finiti ma sei fuori e questi e cosa sono innanzitutto chilometri zero tiguan e parliamo già di prodotto del 2018 in questo caso è una business quattro ruote motrici diesel e cambio automatico il pacchetto business mi mette già su tutto quello che mi serve navigatore cruise control bluetooth sensori parcheggio anteriore e posteriore chi più ne ha più ne metta e se vogliamo qualcosa magari di un po più saporito si audi audi si audi q3 sempre con un pacchetto business ma qualcosa di un po più chic color champagne perché mi piace chiamarlo così chiamatelo come vi pare piace un interno in pelle tabacco fari full led navi sempre motorizzata diesel con il cambio automatico qua abbiamo disponibilità sia di vetture usate che chilometri zero e partiamo dai 27.500 euro lo stesso prezzo abbiamo tiguan a partire da 27 5 per le aziendali macchine macchine ma basta 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 macchine appunto quando è che si parla di vacanze ma anche subito davvero si dai cosa possiamo fare per avere una vacanza allora già si chi acquista l'auto da noi c'è una settimana di vacanza pagata per quattro persone ma chi è che te l'ha detto e me l'hanno detto i capi i capi dell'auto vm davvero loro in persona è allora ora partiamo vai vai vabbè david tu parla pure della macchina che noi andiamo ciao davidotto ciao volevo dire che questa vettura splendida è una 500 l cross motorizzazioni 1.400 benzina 1.300 diesel 1.600 diesel bluetooth il navigatore ma dove sono andati ma sono andata in vacanza stai da solo allora niente io rimango qui a continuare a parlare di queste splendide auto venite a trovarci quello che ci voleva brazo e si così andiamo al mare che siamo già belli abbronzati eh allora niente una bellissima gtd per chi vuole qualcosa di un po diverso un po sportivo e per chi ha voglia di vacanze può anche noleggiare la macchina ma anche solo per il weekend sì 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 anche un giorno anche un giorno oh che bella auto vm anche noleggio allora sì sì chiamateci chiamateci però adesso siamo in vacanza scusa e basta e per la vostra piccola da città non ci avevate pensato noi di auto vm sì fiat 500 1200 benzina valida anche per neopatentati a partire da 9.900 euro sì sì ok sicuri non dobbiamo dare notizie così a casaccio ok ok va bene cosa è successo alle notizie dell'ultima ora chiunque compri la macchina viene rimborsato mille euro beh l'ha appena detto ma chi il boss il boss eh sì ma quindi non l'ha solo detto l'ha anche fatto ma credibile cioè ti ridanno mille euro se compri la macchina stavendo un'idea sì sì o ciao ragazzi ciao tutto bene cosa stavate facendo posso chiedere mi dicono che ci sono delle perplessità sull'idea che c'è venuta per tutti i nostri clienti che verranno a comprare la macchina in questi dieci giorni in queste due settimane un po non vi fidate di me non lo so lo sapete cos'è questo mi sembra che dovreste sapere cos'è questo è firmato allora lo dico davanti a tutti venite a comprare la macchina da noi da oggi fino al 25 tutti i clienti che compreranno la macchina avranno indietro un assegno di mille euro manca solo un nome vorrei che fosse il tuo ragazzi diciamo semplicemente una cosa ricordiamo a tutti che noi piace vendere emozioni perché noi vendiamo emozioni venite a trovarci e prezzi scusa non ho capito cosa vuol dire il cazzo mi aspettavo di tutto